complementi indiretti complemento di specificazione in base al modo in cui si collegano all'evento da cui dipendono ci sono i complementi indiretti per cui io soggetto non trovo predicato verbale che cosa il pallone di chi di alessio specifica di chi è il pallone specifica il significato generico di un nome risponde alla domanda di chi di che cosa ed è introdotto da di preposizione semplice articolata la funzione di specificare un nome generico in modi diversi l'appartenenza al possesso questo libro è di alessio specifica di chi è il libro la relazione affettiva il ragazzo di mia sorella di chi la natura un genere di una cosa il nuovo libro di scienze di cosa autore di un'opera d'arte ho visto un film di spielberg di chi specifica di chi è il libro il film persone o cose che compiono un'azione espressa da un nome le battute di antonio sono brutte l'uso cui una cosa è destinata la scatola degli attrezzi di cosa oppure precisazione temporale di un fatto quando il complemento di specificazione sostituisce un aggettivo le vacanze di natale di cosa natalizie il complemento di specificazione può dipendere da un nome da un verbo da un aggettivo abusare disporre di accorgersi di disporre di dimenticarsi di è degno di è avido di geloso di invidioso di bramoso di